Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi veramente bestiale ragazzi Un glitch che ci permette di duplicare 4 auto alla volta 4 auto non sono poche, sono un valore di 3.800.000 quindi un bel valore Per fare questo glitch dovete avere questa situazione che vi sto facendo vedere O meglio, al quinto, al settimo, al nono e all'undicesimo dovete avere tutte LG retro custom Ovviamente se le avete potete farlo tranquillamente il glitch Altrimenti ne duplicate un paio con il glitch vecchio e fate questo glitch Quindi ripeto, dovete avere al quinto, al settimo, al nono e all'undicesimo LG retro custom E ai numeri pari che sarebbero il sesto, l'ottavo, il decimo e il dodicesimo Dovete avere LG normali ragazzi Quindi ricapitoliamo, ve lo ripeto ancora Quindi ricapitoliamo, ve lo ripeto ancora Quinto, settimo, nono e undicesimo LG retro custom E ai numeri pari, come vi ho già detto Che sarebbero il sesto, l'ottavo, il decimo e il dodicesimo Dovete avere LG normali A questo punto possiamo partire ragazzi Che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo andare in ufficio ad ubriacarci Come prima cosa, quindi andiamo in ufficio, andiamo ad ubriacarci Io adesso sto andando E quando andate ad ubriacarvi ragazzi Non bevete più di 7-8 drink Perché comunque il personaggio cade al suolo E va via tende al culo Poi dovete ricominciare tutto da capo Insomma, despauna in culo al mondo E automaticamente dovete ricominciare tutto da capo Io adesso mi bevo questi 7-8 drink Che ci daranno il tempo per poter fare il glitch Una volta bevuti questi 7-8 drink Ragazzi, come avete visto Possiamo tornare in garage E ovviamente dobbiamo incominciare il glitch Insomma, no? Mi sembra ovvio In primis, ragazzi, dobbiamo invitare il nostro amico in garage Che ovviamente non accetterà subito l'invito in garage Ma lo accetterà in seguito Nel frattempo il nostro amico Andrà a dostare un'attività, una missione di Rockstar E dovrà rimanere dentro quella missione Quando lui sarà nella missione Noi dovremmo unirci alla sua sessione Automaticamente non ci farà entrare Perché giustamente siamo in sessione privata a fare il glitch E ci risbatterà in garage A quel punto il nostro amico Quando noi saremo in garage Potrà uscire dall'attività E dovrà mettersi pronto E sull'ultimo avviso Per accettare l'invito in garage Invece noi che cosa dobbiamo fare, ragazzi? Dobbiamo andare Dietro alla quarta auto, ragazzi Badate bene Fate quello che faccio io Andiamo dietro alla quarta auto E incominciamo a scambiare le auto Questo dovrà essere fatto tutto in maniera molto precisa E andiamo a scambiare La terza con la quarta, ragazzi La quinta con la sesta E continuiamo così Fino ad andare a scambiare anche quelle sopra, insomma Quindi andiamo a scambiare tutte le auto E al momento in cui staremo scambiando l'ultima auto Il nostro amico Gli diremo di accettare l'invito E ci spavola, diciamo, in strada, no? Come avete appena visto Quando noi saremo in strada, ragazzi Dobbiamo andare a sostituire le auto che abbiamo spostato Il nostro amico, ragazzi Vedrà in garage Tutto regolare, in pratica Ma noi che cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo a sostituire le auto dispare, ragazzi Dobbiamo sostituire le auto dispare O meglio Tutte quelle LG RH8 Che noi vediamo nella lista del garage, insomma Quindi in questo caso Quelle dispare La quinta, la settima E così via Fino ad arrivare all'undicesima, insomma No? La quinta, la settima, la nona e l'undicesima Per capire, ragazzi Allora Questo glitch, ragazzi Non è semplice Perché se vi dicessi È semplice Vi direi una cazzata E a me cazzate non mi piace dirle Il glitch è abbastanza facile, sì Ma dopo che ci avete piato la mano Perché se non ci è piato la mano Il glitch magari poi risulta un attimo indigesto Però è abbastanza facile Solamente dopo che ci avete piato la mano Poi se invece volete che vi dico Che è facile Sì, allora regale È facile Che è bevio per culo No, non è così Io non sono una persona che prende per il culo Quindi Il glitch è questo A questo punto, ragazzi Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aspettare che Vengano consegnate le auto E quando Stiamo lì in fase di consegna Controllate sul telefonino Che vi arrivino i messaggi Quando vengono consegnate le auto Pure un po' ombriaghetti Ritornate in garage Come sto io E prendete le auto Dispare, ragazzi Quelle che noi abbiamo spostato Che ora sono diventate LG Retro Custom Quindi andremo a prendere La quinta La settima La nona E l'undicesima Io adesso vi faccio vedere Che qui C'è la duplicazione E adesso andiamo anche al Piano di sopra E vi faccio vedere Che il piano di sopra Prima Ve lo ricorderete Che era una sì e una no E invece adesso Sono tutte sì, ragazzi E quindi abbiamo Duplicato Quattro auto Tutte insieme In un colpo solo E non è Una cosa da poco Insomma È un bel glitchetto, ragazzi È abbastanza Fattibile da fare Più tardi Penso di portare anche Un glitch Per la Clubhouse Per quelli che magari Non hanno il CEO Penso proprio di portarlo Quindi Rimanete sintonizzati Sul canale Ovviamente Con il glitch Della Clubhouse Andrete a guadagnare Un pochino meno Però comunque Possono guadagnare tutti Quindi Tornando al glitch Ragazzi Che cosa dovete fare Dovete andare Al Al meccanico All'officina E cambiare le targhe A tutte le auto Dispare Dispare Ovvero La quinta La settima La nona E l'undicesima Ragazzi Per non perdere Ovviamente Mettete delle targhe Personalizzate Così avrete anche Più possibilità Di non incappare Nel blocco Giornadiero Questo ve lo dico sempre Penso che Abbiate imparato Insomma Sta cosa Detto questo Ragazzi Non ho nient'altro Da aggiungere Vi lascio Al resto del video Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti